venerdì cielo sereno poco nuvoloso in pianura qualche addensamento lungo le prealpi con basso rischio di locali rovesci poveridiani temperature in aumento punte massime 29 30 gradi sabato bel tempo sul vicentino poche nubi lungo i monti dove non sono previste precipitazioni di rilievo temperature affa in aumento estremi termici in pianura 19 31 gradi domenica bella giornata di sole su tutta la provincia solo negli ore pomeridiane avremo addensamenti nuvolosi sui versanti meridionali lungo le prealpi tendenza fino a mercoledì non avremo precipitazioni causa forte campo di alta pressione in arrivo da sud ovest sarà pesante la sensazione di afa in pianura